Al fine di consentire una stretta collaborazione tra regione ed enti locali a frenare l'esodo del personale dei comuni, specie di quelli più piccoli, la regione ha avviato l'Ital per costituire il comparto unico. L'ha annunciato l'assessore degli enti locali Aldo Salaris che stamattina ha partecipato a Villanova Turo all'assemblea dei sindaci della comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo. Uno dei problemi atavici oramai è quello della carenza del personale, un personale che sempre di più in migrazione, in uscita dagli enti locali, dai comuni, verso altri enti e verso altre agenzie. Ecco, proprio per questo abbiamo deciso da qualche settimana già di affrontare il problema in maniera più compiuta. Stiamo valutando delle soluzioni, tra cui prima fra tutte a essere sottoposta a valutazione di fattibilità è la creazione del comparto unico. A breve andremo a confronto serrato con l'Anci, con il Cal e con tutte le parti interessate in modo tale da portare avanti, si spera in tempi brevi, verificate le possibilità di realizzo, la realizzazione del comparto unico. Alla riunione ha preso parte anche il primo cittadino del Paese, Alberto Lodo, che ha annunciato nei giorni scorsi le sue dimissioni a causa della carenza di personale. Ho chiesto al sindaco il ritiro delle dimissioni, un sindaco legittimamente eletto dalla propria comunità deve continuare a servire la propria comunità insieme alla sua giunta e al suo consiglio comunale. In queste ore e nelle prossime ore faremo di tutto affinché il sindaco possa realizzare il proprio programma elettorale e lo possa fare attraverso l'ausilio di un commissario ad acta. Grande solidarietà al sindaco di Bultei, il quale insieme ad altri sindaci purtroppo ha ricevuto atti intimidatori. Questo è un problema ormai più inaccettabile. Oggi è necessario che ci sia un intervento sempre più massiccio, ripeto, del governo, del governo nazionale. Scriverò personalmente al ministro dell'Interno in modo tale che continui l'opera di attenzione, di maggiore attenzione del governo nei confronti degli amministratori locali. Grazie.